Una delle principali preoccupazioni di una donna incinta è la possibilità di avere un bambino prematuro, vale a dire la complicazione più frequente durante la gravidanza e presente nel 10% dei casi. Si definisce come parto prematuro la nascita che avviene prima della 37esima settimana di gravidanza ed è importante prevenire questi casi offrendo un'assistenza completa alla donna. Ma è possibile prevenirlo? In molti casi parti prematuri avvengono in modo spontaneo e senza preavviso, ma spesso è possibile identificare fattori di rischio. I più frequenti sono gravidanze gemellari, la maggior parte non giungono alle 37 settimane, quindi è importante seguire un controllo meticoloso, soprattutto nella seconda metà della gravidanza. Predisposizione genetica, se una donna ha avuto un parto prematuro in precedenza è probabile che anche quelli successivi lo siano. Le visite in questi casi devono essere più frequenti. Alcune infezioni possono avere un certo legame con il parto prematuro. Ne ricordiamo alcune. Infezioni urinarie, infezioni vaginale o persino infezioni orali, bocca, tra cui le malattie parodentali. Malattie materne come ipertensione e diabete potrebbero causare parti prematuri in modo spontaneo o per indicazione medica. Alcune anomalie fetali possono essere associati al parto prematuro. Malformazioni utterine, chirurgie previe nell'utero, collo utterino corto e in genere il cosiddetto stile di vita poco salutare, stress fisico e mentale, agenti tossici come il fumo, la cattiva alimentazione, eccetera. Cosa possiamo fare per evitarlo? Controlli periodici che devono essere più frequenti nel momento in cui si identificano fattori di rischio legati al parto prematuro. È particolarmente importante prestare attenzione al trattamento medico per il collo dell'utero, perché il suo accorciamento è uno dei segni più evidenti della nascita prematura. È importante poter contare su ginecologi esperti e specializzati in gravidanza e a rischio e su tecnologie adeguate per poter prestare un trattamento adeguato ad ogni caso specifico. Adottare uno stile di vita salutare durante tutta la gravidanza ed evitare l'esposizione ad elementi tossici, il consumo di alcol, caffè e tabacco, bere molto, riposo se consigliato dal medico o in caso se sintomatologia sospetta, dolore addominale, perdite di sangue, indizi di cistite, eccetera. Come ritardare un possibile parto prematuro? Attualmente esistono numerose strategie in caso di possibile parto prematuro. Metodi chirurgici come il cerchiaggio effettuato solo in casi eccezionali. Altri e meno invasivi, ben tollerati e con ottimi risultati come il pessario cervicale che riduce dal 30% i casi di parto prematuro. Il pessario è un semplice annello di silicone che si inserisce nel colle dell'utero per via vaginale senza necessità di interventi chirurgici e serve mantenere chiuso e in posizione corretta il colle uterino. E diversi farmaci inibitori delle contrazioni precoci. Il più utilizzato è il progesterone per via vaginale o il farmaco attosibanna per via endovenosa. I medici che controllano la gravidanza dovranno identificare i fattori di rischio per poter applicare le misure preventive adeguate. L'assistenza deve essere sempre personalizzata con controlli periodici adatti al caso. Lo scopo è un parto a termine e la nascita di un bambino sano.